Buongiorno, sempre Pasquale, stamani si riprova il tricottero con la striscia verde per vederla meglio in aria e basta. Bravo, ha fatto bene a dire, sennò lo pigliamo per i cani. Sostanzialmente non ho fatto nessuna modifica l'ultima volta, però ci ho preso un po' più la mano, vediamo. C'è un po' di lente questa mano. Ok, 5 minuti, vieni. Grazie.